Un saluto a tutti da Emanuele Viviana nel giorno del suo quasi secondo mese di vita e del mio 31esimo compleanno. Ciao a tutti! Ciao a tutti da Missa Sbadigliona! Grazie a tutti quelli che si sono ricordati di me e a quelli che mi hanno fatto gli auguri. A presto!